giornata di grande successo al teatro Maria Caniglia per l'apertura della stagione teatrale di prosa 2024 2025 con una commedia che ha conquistato il pubblico l'anatra all'arancia lo spettacolo interpretato da Emilio Solfirizzi e Carlotta Natoli con la regia di Claudio Greg Gregori ha regalato agli spettatori una serata di puro divertimento e allegria i due attori principali insieme a un cast vivace e colorato hanno saputo intrattenere il pubblico con una performance impeccabile piena di humor e spensieratezza la risposta degli spettatori è stata entusiastica decretando il successo dello spettacolo inaugurale la stagione di prosa promossa e organizzata da APS Metaproduzioni in collaborazione con il comune di Sulmona promette di offrire molte altre serate indimenticabili i biglietti per gli spettacoli soggetti a disponibilità sono acquistabili presso il centro di informazioni turistiche di Sulmona sulla piattaforma ciao ticket e presso il botteghino del teatro a partire dalle 19 del giorno dello spettacolo una stagione teatrale che si preannuncia ricca di emozioni risate e grandi interpretazioni imperdibile per tutti gli appassionati di teatro grazie a tutti 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 grazie a tutti